Il 10 agosto dalle 18, in fortezza, appuntamento tra letteratura, gastronomia e astronomia, iniziativa del FAI Giovani Teramo in collaborazione con il Comune di Civitella del Tronto e il Museo NACT. Il FAI organizza sempre comunque eventi speciali che fanno vivere decisamente esperienze uniche e crediamo che l'esperienza del 10 agosto, la notte di San Lorenzo, sarà anche questa un'esperienza unica dove tutti quanti staremo con il naso all'insù a cercare un po' di cogliere la stella più luminosa a cui affidare i nostri desideri più intimi. Ci saranno anche dei tangheri, l'associazione AR Rodolfo Tango, questo gruppo appunto di tangheri che si esibirà durante tutta la notte di San Lorenzo. Visita a uno dei borghi più belli d'Italia, la visita alla collezione dell'alta moda d'epoca nel NACT, Museo delle Arti Creative e Tessili, e necessario poi successivamente è l'incontro culturale curato da Samuel Sospetti, per poi passare allo scenario della piazza di Filippi Pepe dove ci sarà il momento della degustazione di prodotti tipici nel classico, nel tradizionale aperitivo di benvenuto offerto dal FAI e dalle 21.30 si raggiungerà poi la fortezza e da lì nel punto più alto della fortezza stessa ci tufferemo nel cosmo tramite i telescopi. L'obiettivo è quello solito, ci incontriamo spesso qui perché crediamo che Civitella abbia tutte le potenzialità per essere il salotto buono della cultura della nostra provincia e quindi ha sposato anche questa iniziativa come ne ha sposate altre nei mesi precedenti e come probabilmente se riusciamo a mantenere questo trend ne seguiranno altre anche nella parte autunnale.